Ci riempie di elogio insieme al Direttore Generale, siamo bravi, ci sono eccellenze, ma la sostanza qual è? Abbiamo un carico insostenibile di lavoro, i soldi delle strutture semplici che dovevano essere riversati sul personale, soppresse queste strutture, sono praticamente diventate risparmio per l'azienda. Abbiamo chiesto di far arrivare anestesisti, infermieri rossi per ridurre le liste di attese e la migrazione verso altre regioni. Vogliamo sapere quanti medici arriveranno e non abbiamo notizie. Il Direttore Verdoliva parla di concorsi che si faranno, ma non vogliamo vedere le autorizzazioni. Quindi in buona sostanza, un ospedale in cui grandi elogi, grande visibilità, grande immagine, due eventi nell'arco di tre mesi, ma la sostanza c'è la sofferenza del personale, soprattutto del personale della dirigenza. Questo è il punto. De Luca è venuto, non ha dato alcun rischio, stiamo facendo, faremo un lavoro. Quando i tre maggiori giornali napoletani, e non li cito, scrivono domenica una parola su quello che ha detto De Luca, vuol dire che De Luca di sostanziale non ha detto nulla, è stato solo un evento mediatico per farlo venire.